Bentornati su MyFootballJersey. Arrivati a questo punto della stagione, dove ormai ho visto tutte le maglie delle squadre ufficiali dei top team, andiamo a rifare un tuffo nelle maglie retro. Questa è la seconda maglia del Real Madrid per la stagione 2014-2015, la maglia di Ronaldo. Grazie a tutti! La maglia è molto bella, particolare. Il tessuto, devo dire, è veramente diverso dal solito, molto elasticizzato. Mi piace il doppio colore che c'è nei bordi, anche nelle maniche, e mi piace tantissimo il colore fluo che è stato usato per le tre strisce di Adidas. Il costo lo vedete qui sopra? Ecco, anche questo mi piace molto. Come al solito vi ricordo che se volete ordinare la maglia trovate tutti i riferimenti qua sotto, nella descrizione del video. Andate a vedere sul sito perché troverete insieme a questa tantissime maglie pronte per essere acquistate. Vi lascio ora la parte finale, prima però iscrivetevi al canale. È un piccolo gesto che dovete fare, ma ci aiuta a farvi vedere maglie come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima! Ciao!